www.alberto.com Presidente della giuria di quest'anno Bernardo Bertolucci, il maestro che ha promesso sorprese nelle premiazioni, ha accettato il ruolo di responsabilità come omaggio ai giovani registi. Sappiamo che forse il cinema non può cambiare il mondo, però sappiamo che il cinema può crearlo il mondo, un mondo. Tutto qui. Grazie. Sul palco del Lido, oltre alla madrina Eva Riccobono, il direttore Barbera che ha voluto presentare personalmente tutti i membri della giuria. Grazie a tutti, auguro a tutti buon lavoro e auguro a tutti voi buona visione e buon festival. Due delle 20 pellicole in concorso verranno proiettate in giornata, l'italiana Via Castellana Bandiera di Emma Dante e l'australiana Trax di John Curran. In giornata sarà anche consegnato al regista statunitense William Friedkin il leone d'oro alla carriera. Sabato 7 settembre l'assegnazione di tutti i premi. Grazie a tutti.